La DOC Italia è un'azienda che progetta, produce e installa materiali pubblicitari per il punto vendita. Quanto conta l'esperienza nell'attività quotidiana della DOC Italia? Moltissimo, moltissimo. Diciamo che noi facciamo dell'esperienza un po' il nostro valore aggiunto. Perché un po' questa è la nostra forza, la capacità di tradurre in materiale le idee che certe volte i nostri clienti o i designer o gli architetti mettono su carta, poi si tratta tra virgolette di trasformarli in materiali punto vendita considerando anche tutto quello che ci sta dietro e che molto spesso non viene considerato. Quindi la logistica, la facilità di allestimento del punto vendita, la possibilità di riutilizzare nel tempo i materiali e così via. Quindi l'esperienza nell'uso dei materiali, per esempio, nella scelta dei materiali, nel loro abbinamento, è secondo me strategica, fondamentale. Diciamo che noi siamo una realtà un po' atipica perché comunque ci riteniamo ancora una struttura artigianale capace di lavorare il singolo pezzo, la piccola serie come le grandi produzioni. La nostra forza è il fatto che abbiamo all'interno della nostra realtà sia un reparto creativo, progettuale. Abbiamo la produzione internamente, quasi totalmente realizzata internamente. Abbiamo delle squadre per l'allestimento dei materiali, quindi possiamo andare a offrire anche questo tipo di servizio che oggi è quasi diventato strategico per chi produce i materiali e quindi la nostra forza è un po' anche il fatto che un cliente può avere un unico interlocutore che a questo punto diventa responsabile di quello che ha disegnato, di come l'ha fatto e di come l'ha posizionato nel punto vendita. Il Natale sicuramente fa parte del nostro DNA perché noi comunque avendo anche questo canale dei prodotti decorativi per le grandi superfici che è una cosa che è un po' figlia della nostra nascita. Noi nascendo con la vetrinistica poi abbiamo semplicemente modificato un po' gli aspetti grafici, e le soluzioni per farle diventare poi elementi decorativi per l'allestimento di grandi, piccole e medie superfici. Per cui il Natale ha la stessa storicità della DOC Italia. Abbiamo lavorato con tutte le catene della grande istituzione, da Oshankar, Fur, Conan, Finiper.